Il museo è stato istituito da alcuni anni, conserva intanto alcuni documenti importanti che raccontano un po' la storia dell'istruzione nautica a Trapani, ci sono documenti che risalgono sia al periodo dei Borboni perché la scuola è stata istituita a Trapani intorno al 1830, ma c'erano già dei documenti che parlavano di istruzione nautica a Trapani anche in epoche precedenti. E poi c'è anche qui un ulteriore documento che risale invece al periodo del Regno d'Italia, quindi il decreto di re Vittorio Emanuele II che istituisce la regia scuola nautica a Trapani. Abbiamo conservato qua strumenti antichi, molti di questi sestanti per esempio sono appartenuti a comandanti che hanno studiato qui al Nautico e a conclusione della loro carriera hanno voluto donare alla scuola i loro strumenti di lavoro. Poi ci sono diverse apparecchiature anche più recenti, ma comunque ormai storiche in relazione alla tecnologia attuale, di telecomunicazioni in uso in passato. E poi c'è in particolare questo veliero che è intitolato alla memoria dell'ammiraglio Marino Torre, che fu un soldato al servizio del Regno di Francia nel 600 all'incirca, che si fece onore diciamo nel Mediterraneo e quindi la scuola è intitolata appunto all'ammiraglio e questo veliero appunto ricorda la sua figura. Un museo che in realtà è un po' una chicca per chi ha possibilità di venire qui al Nautico, che però non è sempre aperto al pubblico ma ci sarà occasione più avanti di poterlo visitare. Sì, nel mese di settembre ci saranno alcune settimane, sarà possibile visitarla anche insieme alle chiese qua dei dintorni, sarà possibile accedere e anche visitare il chiostro della chiesa di San Francesco appunto che sarà accessibile in questa occasione.